ho fatto il trofionno a tranchetown si torniamo al furgone e andiamo a riscuotere andiamo a riscuotere tutto e anche le bestie tranchetown da noa ma ti facciamo vedere ok sei lì fammi prendere tutto quello che ho del come si chiama sta armatura ah ho busto rinforzato outrider che poi la potenzio tutta la metto al massimo la potenzio tutta brachia dell'outrider salute massima tranquillo che adesso ti faccio da salute proprio tipo così te modifico proprio tutta l'armatura tutto il set finalmente ho trovato tutto il set di sta cazza armatura è l'armatura del mio casco è busto rinforzato dell'outrider di Enoch finalmente sono riuscito a trovare tutto il coso tutto il set di armatura la dove soltanto potenziare mandare a livello 41 e mantenere proprio al massimo tutto vedete la prima volta che sei andato a Tranchetown avevo la maschera del teschio e avevo uno spolverino dietro visto che salute massima ce la metto salute massima gli metto sentise vuole far tempesta ma devo capire tempesta in che senso no no vediamo se mi viene bene il mio nome è Ottimus Prime ah però le prime volte che mi veniva sto vocione silenzio assoluto eravamo io Nando e Claudio faccio un tiro gli faccio Claudio dimmi sono tuo padre col vocione lei mi era venuto veramente bene e che potrà dieci minuti a ridere così madonna ok ah potiamo alla tizia grazie ancora per a tutti il sapone per le mani ho visto bene non telefono hanno continuato a chiamarli i telefoni anche dopo che la gente ha smesso di usarmi per comunicare la gente di oggi non conoscerà mai la gioia di scorrere scorrere per sfuggire anche solo per pochi istanti alla propria orribile vita o forse sfuggire al dover parlare con altri delle proprie orribili dei misganci di buono ma vediamo ne merito cazzo ma come è vero ne merito cazzo e andiamo da dalla linfomane a prendere bomba termica i bersagli che esplodono lasciano solo una chiazza bruciante potrebbe ne questo è lo smonto c'è qualcosa perforatore via di resistenza vabbè facciamo questo grazie a tutti grazie a tutti e poi andiamo a riscuotere per la bestiola sperando che almeno lui isganci qualcosa di utile penso di sì è l'ultima qualcosa di leggendario forse vuoi dire che c'è chi le fucile a pompa vabbè sicuramente a me me lo rifiuto a fucile a pompa ma si al massimo vedi perché c'è sotto c'è posto devo contare quante ce ne ho di queste appiccicate sì ma te andre antem ce l'avevi in digitale te lo potevi riscaricare ma ce l'ha il gioco mi sa ah se l'hai ancora vabbè allora si va a fare i culi anche quei robottini anche lì mi mancano pochi trofei platino po' di quello e dov'è il problema tu vieni a capo e noi siamo qui sul di te il tizio sta di qua ah si dietro di te c'è plavo che vende le armature e qua in fondo c'è quello che vende le armi boh allora così finiamo di consegnare le cose a lui ho un trofeo per te tifone sezione di compenso eeeh un cazzo ehm guanti dell'abbraccio quindi scusa eh esperto di caccia grosse un cazzo questo è protezione dalle fiamme ci ti rompi domate con un uomo famente dalla tua cazzo ok vabbè questo seleziona ricompensa andrà benissimo no no oi godi quanto è cazzo questo no no chiedi a via la missione ma fuori culo sai dove trovarmi ok e mi ho fatto tutto però mi ha dato un oggetto leggendario non so cosa ma mi ha dato uno certo io ho dei guanti guanti confini del tempo spagli è pedo guanti dell'avalice ma dato permetti di usare l'abilità una volta in più etna dalla porta aspetta che ti passa prende la play fa è incombio complicato caccia spine ah questo che viene bene così disegno ok sigillo dove è quello nuovo? eccolo qui e quelli leggendari sono belli allora faccio una cosa mi metto tutta l'armatura di Enoch qual è quella di Enoch? questa meglio questa sbarluccica sbarluccica braghe di Enoch ok chi era leggenda tutto questo quello smantello cosa c'è gli outlier e Enoch e gli stivali ok ok ma la potenzia tutto ah c'è tutta la corazza ok allora dove sta il potenziamento? qua non è in questo modo non è non è non è che non è Ok, avanzamento di livello, di quanto? Vai! Livello massimo, minchia 5000 ma dato. E G, eccolo qua, un data di fuoco. Dove vorrei cambiare la data di fuoco infernale. Ehm... Che ci metto, però? C'è qualcosa di grado 3. Ehm... Grado 2, invece? Ehm... Anni inflitti ai nemici colpiti da cenere, no. L'altro quadrazzo aumenta, mentre la resistenza aumenta del 10. Aumenta i danni inflitti ai nemici colpiti da gelo. Ehm... Ok... Ok... E questi cazzi! Ehm... 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 Unito... 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 Acquetata munizione... fatto tutto si torna lì qua allora questa cosa qua il tuo scudo è attivo? no ah no che schivata fantasma aumenta la tua penetrazione resistenza ok no devo cambiare sta cazzo abilità non riesco a trovare un'abilità buona questa che cazzo fa? pure aumenta le fede del tossico o no? uccidere i nemici ma che cazzo uccido i nemici? devo aumentare il livello a tutti a tutti i pezzi di armature ma rimetto qualcosa per potenziare i proiettili vulcanici? ma vedo un po' anche se suonichino per uno prima però devo risettare tutto ecco ecco ok il caschetto è già tutto quanto ancora, monolito, vado un negrissimo questo probabilmente serviva a qualche scopo superiore aumenta il livello dell'oggetto, ma che? a cazzo che io... che cosa? eh, mochi avevamo cambiato mappa per andare a riscuotere sono rispondati tutti i nemici eh vabbè quindi preparati a morire ancora male Andr eh hm eh vabbè allora 43, 45 37, 38, 39 tutti stanno facendo alzare perchè non posso più alzare qui? ah perchè non ho altri frammenti 35, 38 su ah cazzo bisogna riattivare tutti i... tutti i cosi? eh sì vabbè ben piano moda di baggio dobbiamo rigiurare tutta la mappa io chiaro eh quello si allora eh di cui c'è il 30% e lo è per 10 secondi dobbiamo attivare il tempo di recupero eccolo qua cazzo ha slot 1 ok e questo ho fatto questo invece cazzo c'ha scoppio cireneo che non ho uno scoppio cireneo del cazzo il viaggio i nemici con uno stato debolezza mmmmm questo eh facciamo questo facciamo questo qui e matte, explanation uso di riscaldamento questo metto io su ci ho messo i proiettili colpi di lava caricato dextro ricarica potenziata presa ampia togliamo questo vuoi continuare la tua storia Andrew? questo che fa? vabbè scegli i corazze quante abilità uso questa? una due tre quando hai finito di farti i cazzi fuori ci dà una mano eh un attimo eh devo potenziare c'ho l'equipaggiamento tutto a livello 5 praticamente devo potenziare un attimino il fatto della vita eccola qua ma che che ci sono? ci sono i tizi brutti? tutti ah tutti da campo che palle adesso arrivo subito facendo fuori un po' di perché non posso fare qui? avrò finito i frammenti vabbè andiamo che ci devo fare? ah beh 13.000 vabbè dove so? non mi so penso vabbè un pochettino ho finito un po' di potenziamenti cioè di di così il materiale il materiale quel c'è di il materiale qui preparata via l'altri 20 minuti ma fai anche se contro la biglietta asso nella mano che può iniziare? l'abbè un po' di potenziare per sicurare l'altri 20 minuti ah è vero che ci vuoi un caricatore extra io manco non è vero F Estado ma ora è vero che è stato vengono vengono Ah si, davanti le bambini Sì, salve lei signore Faccio tornare un po' di scudo me l'ha ridata un po' di scudo me l'ha ridata ma perchè mi sono bloccato qui il foro alzo è morto uno è morto proprio male non ce l'ha con me non c'è curiii eh ma da quanto cacchio è arrivato questo ahhh matrimonio che cazzo eee ma da e si viene che cazzo 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 e c'ho tutto assetto dall'alba, meno quello, qualcun altro è rimasto qui non c'ho visto, eh, è albottato non ho fatto bloccato Com'è andata l'azione di Natale con l'altro ricciato? Niente di nuovo allora Hai riempita la vasca da bagno? No Eh appunto la stai tenendo buona per capodanno Allora qui c'è l'altro colonna Buonanotte signor Molito Ma cosa serve? Buonanotte Con questo siamo a due pilastri Che sono? Buonanotte signor Sono già quasi le 11 Scusa che ribellazione? Che baggiamento? 41 su 42 Ok Se io vado giù c'è un'altra cassa Devo solo potenziare e basta adesso Con questo set che ho che mi piace E uso solo questo Che cazzo c'era la revolver Più precisa Sembrava un cannone rotaia C'è qualcosa sul cane Sul cane E' come la mia hai toccato la mia praticamente Eh si Eh si E' per aver fatto l'encomio 13.689 Questo qua mi aumenta la potenza di fuoco questo set Potenza di fuoco vita E la forza dell'anomalia Si vuol dire Si vuol dire Se lo sbaglio O no Qui Mario C'erano i nemici? Si C'erano qui mi sa Mario Dunque Una miglia Ah no qua c'era quello lì che era Era giù Che era già giù di su E' la mano Qua c'era quello dell'anomalia E' c'è anche la Fatico a si scendere Alla prossima